Parliamo di antimafia, incontro dibattito su intercettazioni latitanze, il titolo scelto dal liceo classico Carmine Silos di Bitonto per aprire un dibattito alla quale hanno partecipato anche i ragazzi delle terze e quarte classi dell'istituto su un tema molto sentito per la sua attualità a livello nazionale e regionale. La mafia, le sue ramificazioni in Puglia all'indomani della relazione semestrale della DIA, la necessità di una reazione da parte delle istituzioni così come della società civile, le intercettazioni sono stati alcuni dei temi affrontati. Tra i relatori c'era anche il procuratore di Taranto, Eugenia Pontassuglia, e il sostituto procuratore antimafia e antiterrorismo, Giuseppe Gatti. La mafia non è soltanto un modello criminale, è un modello patologico di stare insieme, di condizionare le logiche della convivenza e quindi contrastare le mafie significa non solo effettuare operazioni di repressione, ma significa portare avanti e testimoniare i valori della Costituzione. Le intercettazioni sono assolutamente importanti per il contrasto alle mafie. Oggi le mafie non dialogano più con i pizzini, usano i criptofonini, usano delle piattaforme criptate. Sono, come diceva Giovanni Falcone, sempre ad un passo avanti a noi. Quindi noi dobbiamo assolutamente colmare questo gap tecnologico che abbiamo e che registriamo in questa materia. Per cui le intercettazioni sono uno strumento assolutamente fondamentale. Le intercettazioni non andrebbero toccate perché sono uno degli strumenti indispensabili per contrastare non solo la criminalità organizzata, ma tutta una serie di condotte illegali di gravissimo impatto sul tessuto sociale.